Patuglie miste sui mezzi di trasporto pubblico locale, controlli a tappeto nei ristoranti, lo ha deciso Udi nel Comitato per l'Odi nella sicurezza pubblica in merito alle nuove direttive legate a zona gialla e il Super Green Pass. Controlli a campione del Green Pass, capienza delle punivie all'80%, Ski Pass online, ripartirà in sicurezza il 4 dicembre della stagione scistica in regione dopo due anni di blocco per la pandemia. Sempre più classi in quarantena, con il nuovo protocollo si va subito in dadi, in attesa di tamponi che arrivano con tempi biblici. Priorità alla scuola è pronta a scendere di nuovo in piazza anche in Friuli. Senza assicurazione e senza revisione, 5 scuolabus della società Leccese e Tundo sono stati sequestrati questa mattina a Codroipo, domani scatiranno i sigili per altri 4 mezzi a Basiliano. Cambio in panchina senza sosta tra i direttanti, ieri si è resonerato Caipa del Sevegliano, il Lumignaco solleva dall'incarico Bernardo e sul mercato c'è anche Bradaschi, direzione Gorizia. Buonasera a tutti voi, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Apriamo con gli esiti della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Udine in merito alle regole che riguardano la zona gialla e all'entrata in vigore del Super Green Pass. Pattuglie miste opereranno sui mezzi del trasporto pubblico locale e saranno previsti controlli a tappeto in particolare nei ristoranti. Occhi puntati sul trasporto pubblico locale per prevenire la diffusione della pandemia in questo periodo di zona gialla per il Friuli Venezia Giulia e con l'avvio della sperimentazione del Super Green Pass. Sui mezzi pubblici saranno attivate pattuglie miste composte da Polizia Locale ed altre forze dell'Ordine insieme ai controllori normalmente già a bordo dei veicoli, sia durante il transito che in prossimità delle fermate. E' quanto emerso dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi questo pomeriggio a Udine in prefettura coordinato dal prefetto Massimo Marchesiello. Qui hanno preso parte anche il sindaco di Udine, l'assessore alla sicurezza della città, il comandante della Polizia Locale del capoluogo Friulano, il questore, i carabinieri, guardia di finanza. A tutti i sindaci della provincia di Udine sarà chiesta la massima attenzione nei controlli del Green Pass tramite gli agenti della Polizia Locale nei ristoranti. Locali pubblici che restano a uno dei luoghi più delicati sul fronte e controllo del certificato verde. Domani un nuovo incontro, sempre in prefettura, che coinvolgerà le associazioni di categoria, le aziende dei trasporti, la Polizia Ferroviaria e Trenitalia. 9 morti con Covid nelle ultime 24 ore in Friuli, Venezia, Giulia e 457 nuovi contagi rilevati. Sono i dati più importanti che emergono dall'ultimo bollettino Covid che registra un leggero calo di ricoveri negli ospedali regionali con 24 pazienti in terapia intensiva e 290 negli altri reparti. Nelle ultime 24 ore in particolare 345 nuovi casi sono stati rilevati su 6.335 tamponi molecolari al 5,4% la percentuale di positività. Inoltre 112 casi sono arrivati da 24.755 test rapidi. Tra i nove decessi sono ospirati tre ultranovantenni, a Ronchi delle Gionari, a Trieste, a Cervignano. Morti anche un 88enne di Trieste, un 80enne di Pordenone, un 76enne di Spilimbergo, un 79enne, un 77enne di Trieste e infine un triestino di 67 anni deceduto in ospedale. La prossima settimana arriverà la nuova app per verificare il Green Pass e dunque sciogliere alcuni nodi relativi appunto ai controlli dei quali si è parlato molto in questi ultimi giorni. La Regione ha inoltre chiesto al Governo di intensificare i controlli ai confini. Anche di questo ha parlato questa mattina il Governatore Fedriga alla presentazione della prossima stagione scistica che parte sabato 4. Si riparte con prudenza, ma si riparte. La stagione invernale 21-22 aprirà il 4 dicembre a partire da Sella Nevea e dentro l'8, l'obiettivo di Promoturismo FWG è di riuscire a rendere operative quante più piste possibili. Il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, insieme all'Assessore al Turismo, Sergio Emiliobini, ha confermato che la prossima settimana arriverà anche l'aggiornamento dell'app per il controllo del Super Green Pass e di aver fatto richiesta al Governo di rendere obbligatorio il controllo della certificazione verde per entrare in Italia. In zona bianca e gialla basterà per gli impianti di risalita il Green Pass normale in arancione, servirà quello Super, gli impianti resteranno aperti con capienza al 100% per quelli all'aperto e l'80% per quelli al chiuso, come le ovovie. Nei rifugi valgono le stesse norme della ristorazione. Il Presidente ha annunciato che tutte le località scistiche avranno una nuova grafica legata al marchio I sono FWG e ha ricordato il grande impegno per evitare chiusure in questa stagione garantendo risorse importanti invece nel passato. Su questo Bini ha sottolineato che ci sono diversi bandi in cantiere e a breve arriveranno i 2.600 euro di rimborso a maestro di sci e i 47.000 per le scuole di sci. Il costo dello ski pass è rimasto invariato e sono già stati venduti 3.500 abbonamenti. Il 6 sarà anche inaugurata la prima seggiovia a sei posti della regione sul Monte Zoncolano e brandizzata a Giro d'Italia con la conseguente apertura della pista 3. Antonio Bravo, direttore di Promoturismo FWG e Jacopo Mestroni hanno evidenziato come si hanno programmate 1.300 esperienze per il turista quindi non solo sci e nell'estate del 2021 c'è stata una crescita di arrivi rispetto al 2020 del 33% e di presenza del 31%. Al momento non ci sono disdette, il Green Pass sarà obbligatorio dai 12 anni in su e la FFP2 al chiuso dai 6 anni in su. In caso di chiusura degli impianti è previsto un rimborso al 100% mentre via via a scalare se le chiusure dovessero arrivare dopo. Da gennaio sarà inoltre obbligatorio il casco per i monorenni e per tutti un'assicurazione RC acquistabile a 3 euro al giorno o a 46 euro per tutta la stagione ovviamente per gli sciatori. E Federica ha fatto il punto anche sulla situazione Covid in regione. Allora sentiamolo. Con la nuova zona Gianna invece quindi con la possibilità di utilizzare il Green Pass rafforzato vuol dire quindi o aver superato la malattia o avere fatto il vaccino tutte queste limitazioni non ci sono quindi di fatto rimane per chi ha questi requisiti come la zona bianca che conoscevamo. È chiaro che oggi l'impegno che dobbiamo metterci tutti per uscire sempre meglio da questa situazione è partecipare alla campagna vaccinale, partecipare alla terza dose. Io personalmente la farò già questa settimana la terza dose perché sono passati 5 mesi. Dall'altro lato ovviamente però se le frontiere rimangono non controllate e entra magari uno vaccinato, contagiato e d'altro è chiaro che la situazione ci preoccupa quindi abbiamo chiesto al governo di intervenire. Fedriga ha poi sottolineato la difficoltà per la mancanza di personale sanitario tra contagi e no-vax ma da qua ai prossimi giorni saranno implementate le agende con un segnale positivo sulle prime dosi per quanto riguarda i vaccini e l'auspicio che vengono rafforzati i controlli sul Super Green Pass. Di non credere alle immense falsità che continuano ad essere diffuse e che sono lontane da realtà. Oggi abbiamo dati eclatanti dove l'incidenza sul contagio e sulla malattia grave tra vaccinati e non vaccinati non ha paragone. Tornando poi alle questioni della montagna sono previsti rimborsi importanti con 6 milioni di euro che arrivano dal governo per quanto riguarda le attività produttive legate allo sci. Per quanto riguarda poi le politiche di intervento andremo rispetto a per esempio la regione Lombardia ma anche alla regione Liguria che hanno già identificato le fattispecie dei codici a teco andremo ad ampliare la platea insomma quindi la platea è importante con risorse importanti. I sindacati della sanità pordenonese hanno dichiarato lo stato di agitazione chiedendo un incontro con azienda sanitaria e prefetto sul tavolo le sofferenze legate alla quarta ondata. La sanità del fluo occidentale è in sofferenza sotto i colpi della quarta ondata e per questo i sindacati CGL, Will e Nursind hanno dichiarato lo stato di agitazione e richiesto attraverso una doppia lettera un incontro con la direzione di Asfo e il prefetto. Sul tavolo temi che si trascinano da tempo e che si sono ulteriormente aggravati. Le forze sociali chiedono in primisi il rinnovo per almeno un anno del personale a tempo determinato in scadenza a fine anno e l'assunzione di 80 infermieri e 50 operatori sociosanitari a tempo indeterminato. È un atto dovuto per i lavoratori e per i cittadini per tutelare la loro salute. Siamo in una situazione veramente grave di carenze di personale a fronte di un aggravatorio a tempo indeterminato di personale OS e di personale infermieristico. Quando va bene un infermiere ogni 12 pazienti che si abbassa nel turno notturno e arriviamo fino anche a 20 pazienti a testa. Il tutto si ripercuote sulla risposta sanitaria, ospedaliera e domiciliare ridotta di fatto alle urgenze. Per esempio la chirurgia della mano è stata convertita prima in reparto Covid, adesso reparto di quarantena, anche una delle medicine è stata convertita in Covid, nonché la pneumologia. Il personale è stanco e chiede aiuto. Non abbiamo punti di sfogo dell'ospedale. L'RSA di Sacile è stato riaperto ma è stato richiuso per ancora un'infezione Covid. L'RSA di Pordenone rimane ancora con il lucchetto. L'RSA di Maniago è stato convertito in Covid. Anche i servizi territoriali stanno soffrendo. Il confronto con azienda sanitaria e prefettura è l'ultima carta. In vista potrebbero esserci proteste più significative. Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina in Carnia alle 9.21, in particolare nei pressi di Cavazzo, una profondità di 7-8 chilometri. Sisma che è stato avvertito nitidamente dalla popolazione con diverse segnalazioni che sono arrivate anche alla nostra redazione. I residenti di Cavazzo hanno raccontato di aver sentito la scossa distintamente e anche di aver sentito un forte boato. Altre segnalazioni da Venzone, Caneva, Tolmezzo e dall'Alta Val d'Arzino. Non ci sono stati danni a cose o persone. Bussano alla porta di casa di una donna di Udine presentandosi come appartenenti alle forze dell'ordine e dicono che devono fare un controllo in casa. Dalla paura la donna sviene mentre a terra senza sensi entrano in casa in cerca di soldi e preziosi che però non riescono a trovare. Dunque fuggono. La donna si riprende dopo una mezz'ora rendendosi conto di quanto accaduto e chiama il 112. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Udine. Un 72enne è stato condannato dal Tribunale di Udine per violenza sessuale. Aveva palpeggiato una giovane nigeriana ospitata in casa sua. Aveva palpeggiato una donna nigeriana da lui ospitata, condannato a un anno e tre mesi di reclusione, pena sospesa. Protagonista della vicenda è un udinese di 72 anni, riconosciuto colpevole dal Tribunale di Udine di violenza sessuale e di percosse. I fatti sono caduti nel luglio del 2019, quando l'uomo ha messo le mani sulla donna di 26 anni e, quando lei aveva cercato di chiudersi in camera, l'aveva colpito con un bastone sulle mani. La vittima era ospitata a casa del 72enne assieme al marito, anche lui nigeriano, e alla figlia piccola. Già da tempo, dice il difensore e l'avvocato Francesco Como, c'erano tensioni tra il mio assistito e la famiglia, tanto che lui, in più occasioni, aveva dormito nel garage condominiale e aveva chiamato più volte la polizia per allontanare i tre dalla sua abitazione. conclude, il legale, che valuterà l'appello, si è dichiarato relativamente soddisfatto perché i giudici hanno ritenuto la violenza di lieve entità e riqualificato in percorsa l'iniziale accusa di violenza privata. Aveva palpeggiato nelle parti intime una studentessa che stava andando a scuola, una studentessa minorenne. Per l'uomo sono scattate le manette da parte dei militari della stazione di Basovizza che hanno individuato l'uomo mentre rientrava dalla Spagna, dove si era rifugiato per evitare il carcere, è una 33enne di origine romegna, ricercato perché deve scontare una pena di un anno e cinque mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata, fatto commesso a Roma nel 2010. Un diverbio tra vicini finisce con un pugno al volto e con una mandibola rotta. Un 32enne di elestizia è stato rinviato a giudizio dal GUP di Udine. Per un diverbio tra vicini gli avrebbe rotto la mandibola con un pugno. Un 32enne nomade è stato rinviato a giudizio per minacce, violenza privata e lesioni personali. Lo ha deciso il GUP di Udine Carlotta Silva che ha rinviato a giudizio anche la zia 64enne per percorse e minacce. La vicenda risale a marzo 2020 quando la vittima, un settantenne di lestizia, chiese a Elvis Levakovic di spostare l'automobile che impediva il passaggio del suo trattore verso il campo di proprietà della sorella. Per tutta risposta, l'imputato, che abita lì accanto, lo avrebbe mandato via a male parole e minacciato di morte. Inoltre, la zia acquisita, Anna Maria Udorovic, lo avrebbe schiaffeggiato e minacciato. Un mese dopo, Levakovic lo avrebbe minacciato nuovamente di morte, colpito sul volto mentre era girato di spalle, rompendogli la mandibola in più punti e facendogli perdere due denti. Lesioni queste, giudicate dai sanitari guaribili in 40 giorni e che hanno comportato uno stato di malattia ancora più lungo. La prima udienza è prevista per fine maggio 2022. Torniamo alla pagina Covid per parlare di scuola, perché da oggi, in caso di segnalazione di casi positivi al Covid, dirigenti scolastici possono decidere in emergenza se attivare la DAD. Lo stabiliscono le nuove indicazioni del governo a causa dell'incremento della diffusione del virus. Con oggi nelle scuole italiane sono cambiate le regole anti-Covid a causa dell'aumento di contagio e della comparsa in scena della variante Omicron. La novità più eclatante, spiega Paolo De Nardo, responsabile di due istituti comprensivi di Udine, è che gli stessi dirigenti hanno la facoltà di attivare la didattica digitale in attesa dell'intervento dell'autorità sanitaria. A Udine, nell'ultimo mese, sono state chiuse ogni settimana due o tre classi per qualche giorno, in attesa del tampone dell'esito. Al momento non si segnalano focolai. Nei primi due giorni di questa settimana la situazione è tranquilla, spiega ancora De Nardo, sottolineando di essere più preoccupato per il numero di non vaccinati che lavorano a scuola. Dal 15 dicembre dovranno decidere se regolarizzarsi. Se non lo faranno, continua il dirigente scolastico, ci saranno problemi di copertura dei posti. Dovremo reperire i supplenti e non sarà un compito facile perché dovremo basarci sulle classi di concorso. In provincia di Udine la media di personale scolastico non vaccinato è attorno al 5%. Chi non si regolarizzerà sarà sospeso dal servizio fino al termine dell'emergenza. Abbiamo sentito dunque le nuove regole, ma è stata revocata la circolare del governo che prevedeva la quarantena per tutta la classe nel caso di una positività appunto a scuola. Da Roma è arrivato il dietrofront rispetto a quanto comunicato fino a ieri e ora servono due casi di positività per i bambini dai 6 ai 12 anni, elementari e prime e medie, per far scattare la DAD. Per i ragazzi più grandi invece, per i quali la vaccinazione è già possibile, resta il sistema della sorveglianza attiva con i tamponi. A casa restano soltanto i positivi, la classe andrà in DAD al terzo contagio. Senza assicurazione e senza revisione, 5 scuolabus della società Leccese Tundo sono stati sequestrati questa mattina a Codroipo dalla polizia locale e da domani scatteranno i sigilli anche su altri 4 mezzi a Basiliano. Sequestrati questa mattina a Codroipo 5 scuolabus della Tundo, la società di Lecce che aveva vinto l'appalto per il trasporto scolastico con diversi comuni del Friuli Venezia Giulia, ma che poi per gravi disservizi si è vista rescindere il contratto. Dopo il sequestro di 5 veicoli simili a Pordenone, questa mattina la polizia locale del distretto del Medio Friuli ha posto i sigilli ad altre 5 pullman, tutti senza assicurazione, alcuni senza collaudo e ha elevato salate sanzioni amministrative nei confronti della società. Proprio adesso ero assieme al sindaco del Negro che è sempre a Basiliano, che è una delle sedi del corpo della polizia locale del Medio Friuli e mi aveva preannunciato anche lui questo sequestro domani di altri 4 mezzi, quindi in totale 9 mezzi della ditta Tundo che verranno sequestrati per mancanza delle dovute prescrizioni di legge. il contratto si è finalmente rescisso e abbiamo tutti quanti optato per un nuovo vittore. Mi pare solo un comune sia ancora sprovvisto di trasporto pubblico per i bambini delle scuole, quindi di scuolabus, ma gli altri comuni hanno tutti bene o male trovato chi sostituisce la ditta che aveva appunto vinto questa gara d'appalto molto criticata già dall'inizio da noi sindaci. Gli udinesi stanno ancora aspettando i moduli precompilati per pagare la Tari entro il 2 dicembre perché non sono stati consegnati dalla ditta che aveva in appalto il lavoro. Dunque dopo le segnalazioni è intervenuto il comune di Udine che ha posticipato i termini di pagamento al 27 dicembre. La tassa sui rifiuti non si paga più? Una domanda abbastanza frequente che gli udinesi si sono posti non ricevendo a casa i moduli con gli importi da versare entro dicembre e proprio in seguito alle richieste e alle segnalazioni dei cittadini il comune ha messo in moto i controlli. Ma io devo chiedere scusa ai cittadini di Udine perché purtroppo c'è stato un disguido non causato da noi ma da questa società di Santa Maria Capavuettere siamo in Campania doveva distribuire ai cittadini di Udine questi bollettini per pagare la tassa sui rifiuti e abbiamo verificato in pratica che non sono stati distribuiti i bollettini per pagare la gente ci ha chiamato i cittadini ci hanno chiamato e adesso noi abbiamo dovuto correre ai ripari trovare un'altra ditta che distribuisse questi bollettini per pagare. Oggi abbiamo stabilito in giunta di differire il termine del pagamento della Tari che scadeva il 2 dicembre l'abbiamo differito al 27 di dicembre e ai cittadini udinesi a quelli che non hanno ancora pagato la Tari e dei quali siamo sicuri che non hanno ancora pagato verrà inviato un secondo avviso con la nuova scadenza del 27 di dicembre e qualora loro avessero già ricevuto l'avviso e avessero già adempiuto l'avviso che gli è stato spedito può essere buttato via. Se guardiamo nel dettaglio questa manovra non può essere definita soddisfacente ma va considerata come una fase di transizione. La presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli commenta così la legge di bilancio 2022 che è in fase di definizione a Roma quello che a mio avviso segna un passo importantissimo prosegue Mareschi Danieli è che per la prima volta si parla di riduzione del costo dello Stato ovviamente 8 miliardi non sono una grande cifra per l'Italia ma segnano una direzione intrapresa verso il fare quello che è necessario per il paese in generale conclude la presidente si denota un'apprezzabile riduzione dei bonus a vantaggio dello stanziamento per la riduzione del caro bolletta e al posticipo delle discussioni su plastic tax e sugar tax siamo sulla strada giusta l'impianto di risalita al castello da piazza primo maggio a Udine costerà 2 milioni 800 mila euro il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato oggi dalla giunta comunale soprintendenza permettendo l'ascensore che da piazza primo maggio arriva al piazzale del castello di Udine dovrebbe partire da un ex rifugio della seconda guerra mondiale e arrivare vicino a casa della contadinanza l'amministrazione comunale punta su questa realizzazione per garantire l'accesso anche a chi ha problemi di motricità abbiamo pensato di farlo in piazza primo maggio usufruendo di quello che è il bunker e da lì si potrà salire poi fino ad arrivare vicino alla casa della contadinanza e vicino a quello che sono i punti serbatoi dell'acqua del CAF ma gli scavi non vi stanno bloccando l'opera? abbiamo già visto che non va a confliggere diciamo non è il progetto che abbiamo noi cioè adesso dove stanno facendo gli scavi è al di fuori del progetto la giunta oggi ha anche approvato il progetto di fattibilità per radere al suolo i manufatti della caserma piave e realizzarvi un bosco urbano andiamo a togliere ad abbattere sostanzialmente a demolire tutti gli edifici e bonifichiamo l'area e facendo questo creiamo quelli che sono i 5,3 ettari di bosco urbano finalmente si potrà vedere in quell'area una vera zona diciamo ambientale adatta a quella che è la Udine dei prossimi decenni e restiamo a Udine perché dal prossimo anno matrimoni e unioni civili potranno essere celebrati anche nella ex chiesa di San Francesco a Udine la chiesa sconsacrata di San Francesco potrà essere utilizzata per matrimoni e unioni civili lo ha stabilito la giunta comunale per valorizzare la storia friulana di Giulietta e Romeo a partire dal prossimo anno i promessi sposi potranno celebrare il momento delle loro delle loro nozze all'interno della chiesa di San Francesco ci erano prevenute molte richieste in particolare per celebrare dei matrimoni che ricordino la vicenda di Giulietta e Romeo c'è anche un bel dibattito devo dire in città una sana competizione con la città di Verona e anche noi vogliamo ricordare questa questa vicenda e quindi dare la possibilità ai nostri cittadini anche ai cittadini non residenti nel comune di poter venire alla chiesa di San Francesco e celebrare il loro matrimonio con delle tariffe che si applicano già ad esempio in una sala del comune di Udine quindi non sono delle tariffe particolarmente elevate rispetto anche a quelle che si trovano in altre città analoghe passaggio di consegne i ruoli fino a diventare capo formazione e ora comandante alla cerimonia anticipata dal simbolico passaggio di consegne in volo hanno partecipato i sindaci del territorio con in testa Fabio Marchetti di Codroi poi Marco Del Negro di Basiliano c'era anche il presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin torniamo alla cronaca perché lutto a Flaibano per l'improvvisa scomparsa della consigliera comunale già assessore al bilancio Cinzia Perez di soli 33 anni stoncata da un male incurabile lascia il marito e due figli in età scolare tanti amici e colleghi dell'assemblea civica Alessandro Pandolfo dice siamo sotto shock il sindaco continua mostrando la più stretta vicinanza dell'amministrazione comunale in questo momento alla famiglia di Cinzia chiude dicendo siamo in lutto la giovane mamma lavorava in un negozio di agraria di coderno di sedegliano a Pordenone scatta il piano emergenza freddo prevede una serie di aiuti per le persone più fragili in particolare anziani e disabili con l'arrivo del freddo a Pordenone scatta il piano emergenziale per tutelare le persone più fragili il comune attraverso i servizi sociali ha attivato una serie di supporti mettendo a disposizione alcuni numeri utili per garantire risposte nel periodo in cui le temperature sono più rigide sicuramente in primis gli anziani verso i quali c'è sempre una particolare attenzione da parte appunto delle politiche sociali e poi eventuali persone che possono avere delle difficoltà abitative e quindi hanno la necessità di essere attenzionate a collaborare con il comune nell'emergenza sono le associazioni di volontariato come Croce Rossa Hauser Chiesa Evangelica Battista e AIFA noi trasportiamo disabili e anziani sia a far visite in ospedale sia a far la spesa farmacia qualsiasi necessità abbiamo i furgoni quelli adatti a portare le carrozzine e quindi siamo disponibili a qualsiasi esigenza non c'è pace per gli allenatori nel calcio dilettanti continuano i cambi in panchina a partire dal sevegliano che ha esonerato Caifa il lumignaco che ha sollevato dall'incarico Sante Bernardo ne parliamo tra poco a Sport FWG spazio anche all'Udinese nel giorno esatto dei 125 anni dalla fondazione ma parleremo anche di pallavolo con i regionali di A2 e di ginnastica e di atleti master ci vediamo tra poco a Sport FWG a seguire le previsioni del tempo grazie per aver seguito il nostro telegiornale un buon prossimo momento di serata arrivederci la 보�emie a a stat